Con il Senato delle Regioni non ha più senso che venga mantenuta la conferenza Stato-Regioni, a dirlo il Presidente della Regione Piemonte, Sargio Chiamparino, che presiede la conferenza stessa, a margine del 45esimo convegno dei giovani industriali a Santa Margherita Ligure. Chiamparino ha colto con favore la sollecitazione da parte degli imprenditori a favore di una politica industriale. Gli stimoli sono naturalmente tanti. Uno, ad esempio, quello della sollecitazione a una politica industriale, lo considero fondamentale perché credo che sia mancato nel passato. Questo abbia impedito che molte industrie italiane facessero di più e meglio di quello che già comunque hanno fatto e che non è poco. Questo richiamo al metodo io lo trovo molto importante perché spesso se non si dice come si raggiungono gli obiettivi, dire solo gli obiettivi si fanno delle petizioni di principio. come diceva un grande teorico del socialismo europeo di fine ottocento, il fine è nulla, il mezzo è tutto perché a seconda di come ti raggiungo un obiettivo dipende se lo raggiungo o meno. Solo dire l'obiettivo è facile. Ecco, due sollecitazioni che mi pare siano importanti per la politica e non solo. Io penso, è un pensiero sicuramente forse minoritario, che con la riforma del Senato il sistema delle conferenze non dovrebbe avere più senso di esistere perché nel momento in cui si fa un Senato delle regioni è del tutto evidente che continuare avere a fianco un sistema che è spesso farraginoso, molto burocratico, la cosa delle conferenze rischia di essere un appesantimento del tutto inutile. Per fare questo però bisogna che il meccanismo del Senato sia così come adesso nella lettura che verrà, credo al Senato, sia messo a punto. Per esempio, faccio una sola considerazione, deve essere una Camera delle regioni vera. Quindi, se non si vuole copiare il modello Bundesrat, si deve per esempio dire che almeno c'è il vincolo di voto territoriale, che vuol dire che i rappresentanti di una regione votano per quella regione e non votano per gli schieramenti dei partiti che li hanno letto. Torino ha dovuto fare molti passi in più di Genova perché Genova, la vocazione turistica l'ha sempre avuta, ha cominciato dal fatto che è una città sul mare. Noi abbiamo dovuto fare molti passi in più perché partivamo da una situazione di città industriale in crisi e quindi persino le difficoltà a farci conoscere. In fondo i piemontesi cantavano e cantano Genova per noi. Adesso mi pare che i passi ne sono stati fatti, in fondo ci sono situazioni abbastanza simili. Penso che sarebbe anche interessante provare forme di collaborazione, io dico progetti comuni, io a dire la verità penso che bisognerebbe lavorare sia con la Liguria ma sia anche con la Lombardia, senza pensare a nessuna nuova regione perché se no ci mettiamo a fare la guerra dei 30 anni. Non è questo il punto, il punto è che però penso ai trasporti, penso all'ambiente, penso a su cui già ci sono collaborazioni ma occasionali, renderle sistematiche senza creare nessuna superfettazione burocratica ma decidere, che so io, che per il trasporto pubblico locale le gare in alcuni ambiti si possono fare insieme delle regioni confinanti perché magari da Alessandria c'è più gente che viene a Genova, dalla Val Bormida o dalla Valle Scrivia c'è più gente che mi viene a Genova che non a Torino, come da Novara c'è più gente che va a Milano che non a Torino e viceversa. Allora dico, pensare per esempio a quegli ambiti, fare delle gare comuni per il trasporto pubblico locale mi sembrebbe ragionevole. Ha senso che ci siano differenze nei tassi di emissione di polveri nocivi nell'aria che a distanza di 20 chilometri fra Trecate e che so io, Bofalora cambiano in modo significativo. Ecco, alcuni esempi di coordinamento.